Salve a tutti, vi aspetto il 23 maggio per il Virtual Open Day organizzato dall'UniMarconi per presentarvi i nostri corsi di studio in lettere. Scopriremo insieme tutti quanti i percorsi che l'Università vi propone per formare professionisti che avranno a che fare a tutti i livelli con il mondo del lavoro culturale.